La contemporaneità e la passione di Puccini a riempire i teatri e i melomani puristi non possono rinunciare alle opere del grande Giacomo ed è proprio una delle sue opere Madame Butterfly ad aprire la stagione della lirica del Teatro Maruccino di Chiedi, venerdì alle 20.30. In replica il 16 alle ore 17.30 in collaborazione con la Fondazione Festival Pucciniano di Torre del Lago sotto la regia di Manu Lalli che di questo allestimento firma anche scene, luce e costumi per un'opera tutta al femminile. Al Maruccino andrà in scena la vicenda drammatica Musiche Giacomo Puccini sul libretto di Giuseppe Giacose e Luigi Illica a dirigere l'orchestra dell'istituzione sinfonica abruzzese Gianna Fratta mentre Cristian Staringieri dirigerà il coro del Maruccino che insieme alle figuranti sarà parte essenziale della messa in scena. È una visione estremamente moderna, vedremo queste donne bendate, donne che non vogliono vedere la realtà. La parte musicale di Puccini per quello che mi riguarda, io sono sempre molto vicina alla partitura pucciniana quindi sicuramente un'interpretazione personale come ogni direttore e direttrice fa sul podio ma estremamente attenta a tutto quello che Puccini ha indicato nella partitura. Quindi Puccini riesce a cogliere questo, la morte, il tradimento, gli amori, le passioni, l'amore per una mamma, per un figlio pensiamo su Orangelica e poi la grande attenzione che lui ha per i sentimenti delle donne la gran parte dei titoli pucciniani sono dedicate a donne, hanno come protagonisti donne sia nel titolo, pensiamo a Turandot, Tosca, Madame Butterfly, Suorangelica, ma anche nei contenuti. Le faccio un'ultima domanda, è ancora raro, anche se non troppo, vedere una direttrice maestra donna. Ci vorrà ancora del tempo perché iniziamo ad essere di più numericamente ma parliamo ancora di percentuali estremamente esigue rispetto alla presenza maschile sul podio perché è un mestiere molto recente, da pochi decenni che le donne si dedicano alla direzione d'orchestra ma sono sicura che essendo un lavoro che non ha un appannaggio di genere non dipende dall'essere uomo o donna. Particolarità, la direttrice d'orchestra è sposata con Piero Pelù, tutta un'altra musica. Lei dice è una persona molto normale nella quotidianità, sul palco in un rock star, un performer come ce ne sono veramente pochissimi ma nella vita di tutti i giorni io e lui siamo persone di grande semplicità e umanità. Intanto la regista di Madame Butterfly? Ma forse Puccini non è mai tradizionale, credo che Puccini ci abbia avuto nella sua vita un senso del teatro incredibile e che soprattutto in quest'opera sia di una modernità pazzesca. Il taglio che io ho dato a questo allestimento che nasce al teatro Puccini è proprio quello della natura che viene degenerata e offesa dall'uomo Pinkerton bianco che la prende, la conquista e la abusa. E non finisce qui perché l'opera al Maruccino di Chieti proseguirà a novembre con la cavalleria rusticana di Pietro Mascagni mentre a dicembre in scena Don Pasquale di Gaetano Donizzetti.